Una sconfitta che brucia ed un brutto risveglio dopo la gara vinta sabato scorso contro i Cingoli. Quella partita sabato nella prima di ritorno del girone B di Serie A1 dalla Lions Teramo al Pala Giorgio Binchi sarà una sconfitta che gli uomini di Marcello Fonti ricorderanno per parecchio tempo. Perché è arrivata nel miglior momento della stagione dei Biancorossi e perché una vittoria l'avrebbe proiettata al secondo posto in solitaria scavalcando Padova e approfittando del turno di riposo proprio di Cingoli. Ma così non è stato e lo stop è reso amaro ancora di più perché tutti, anche in Romagna, sabato erano cosci della indubbia superiorità della squadra di Marcello Fonti. Eppure è arrivato il secondo stop stagionale contro una squadra che pure alla vigilia contava solamente due punti in classifica. Una prestazione condita da molti errori da parte dei Biancorossi ai quali non è bastato una grande seconda parte di ripresa per portare a casa punti e gioco. Dopo un avvio equilibrato è arrivato subito l'allungo da parte di un concreto Romagna 6-11 al ventesimo con l'immarcabile Rotaru fino al 10-15 punteggio con il quale le due formazioni sono andate in riposo. E ad inizio ripresa gli uomini di Domenico Tassinari sono riusciti a raggiungere anche il più otto. Poi una serie di recuperi in difesa propiziati soprattutto dalle parate di Pierluigi di Marcello ha dato in là la rimonta che ha portato al ventiduesimo la Lions sotto di quattro lunghezze 21-25 e successivamente almeno uno 24-25. Nel finale alcuni errori in attacco hanno consegnato la partita a Romagna 24-26. Per il Teramo c'è spazio per qualche recriminazione su alcune decisioni arbitrali poco favorevoli ma la gara dei Biancorossi è stata decisamente sotto tono e pochi sono gli alibi da poter presentare. La squadra tornerà subito ad allenarsi per preparare la difficile trasferta di sabato a casa della Capulista Bologna dove non saranno e non potranno essere ammessi altri cali di tensione.